Salve a tutti, io sono Vale Master e ben ritornati su questo nuovo gioco che si chiama Total Tank Simulator. Oggi andremo a fare una battaglia personalizzata, quelle che ci piacciono a noi diciamo. Allora come prima cosa bisogna scegliere le fazioni, facciamo Italia contro Germania perché la Germania ha molti cararmati quindi vi vorrei far vedere alcune cose del gioco. Mettiamo tempo infinito e soldi 3.000 si ritaglia. C'è anche l'ambientazione che mettiamo i campi coltivati, i terreni agricoli scusate. E passiamo al gioco. Allora questo è il campo diciamo di battaglia, allora qui è dove si posizioneranno le armate dell'Italia e qui le armate nemiche, ovvero quelle della Germania. Allora oggi vorrei fare un esperimento diciamo con cararmati pesanti tedeschi contro... Ah ok, è già finito i soldi. Eh sì, è già finito i soldi. Vediamo se ci rimane qualche soldo per... Ah sì, ok, solo cararmati. Mentre noi metteremo tutti i soldati, ok? Non finiremo i soldi, ok? Il bello di questo gioco è che oltre ad essere uno strategico puoi anche comandare, vabbè ovviamente un solo soldato. Ecco, adesso vi faccio vedere come... Ecco, siamo entrati in prima persona diciamo. In questo gioco si sparano tipo alle case e vengono distrutte. Mi sembra anche a volte pure un calcone. Ok. Ok, abbiamo distrutto. Abbiamo vinto. Vi ho fatto vedere, diciamo, come... Si vince. Com'è la logica di questo gioco. Eccoci in un'altra partita. Eh... Ok. Sempre Germania contro Italia, sempre 5.000 soldi. E... Volevo fare... Mettere qualche armato di salve. Però mettere anche... Quelli un po' più... Fare una partita un po' più realistica, insomma. Ah, va bene. I soldi già finiti. Ma stiamo a cliccare armato. Ok. Tocca a noi. Questa volta... Mettiamo qualche cararmato... Qualche CV-33. E poi vorrei mettere la panteria. Ok. Possiamo iniziare. E ora non sono andato a casa. Tanto. No, no. Rendiamoci. In questo gioco c'è anche il fuoco amico, quindi bisogna stare attenti. Non so perché abbiamo 5.000 soldi. No, no. No, no. No, no. Scusate. No, no. No. Ecco, adesso sono un preghetore, qua che è, non c'è, ragazzi possiamo anche vincitere In alto vedete la barra, una barra gialla e una barra blu, la barra gialla è la nostra e abbiamo vinto Quindi ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale e per oggi è tutto, vi saluto e ciao da Vale Master Grazie